Quando sono venuto a settembre, a seguito di quello che è successo, mi sono fatto una domanda, me la sono fatta come uomo, prima ancora che come politico. Mi sono detto, bene, io non posso cambiare il passato, ma posso fare qualcosa per il futuro e in effetti qualcosa si può fare. Ad oltre un mese dalla tragedia dell'archivio di Stato, da quella 20 settembre, il ministro Alberto Bonisoli è tornato in città, ad Arezzo. Qui ha incontrato i dipendenti dell'archivio, ma ha anche annunciato lo stanziamento di oltre 109 milioni di euro per la messa in sicurezza di 314 siti culturali, archivi e biblioteche in testa. Stanziamenti che non interesseranno Arezzo, nonostante la tragedia che si è consumata all'interno dell'archivio, infatti l'impianto risulta completamente a norma. Sono soldi che verranno spesi per mettere in sicurezza antincendio diversi, parliamo di diverse decine in tutta Italia, di edifici che appartengono al ministero. E questo è il minimo che possiamo fare per la sicurezza di tutti coloro che ogni giorno frequentano questi posti. Dobbiamo passare dalla logica della scusa alla prevenzione. Presente questa mattina anche il direttore dell'archivio di Stato che con la voce rotta dall'emozione ha ricordato i due colleghi asfissiati da una fuoriuscita di gas Argon dall'impianto antincendio. Saviotti ha però sottolineato anche la necessità di formazione e di informazione. Nessuno ci ha detto che questo gas era pericoloso e quindi diciamo così i colleghi sono morti per questo, per una mancanza di informazione. Quindi ci vuole anche competenza perché noi le regole le abbiamo seguite tutte. Non è mancato ovviamente un pensiero alle famiglie delle due vittime dell'archivio. Ce le ricordiamo, ce le ricordiamo molto e io mi ricordo molto bene le famiglie, tutte e due. Verranno anche ricordati insomma? Verranno ricordati. Verranno ricordati.